Ciao a tutti, lunedì 26 novembre 2018, siamo pronti per iniziare un'altra settimana e la cominciamo subito con degli snatch, dovremo andare a costruire un heavy set con 5 ripetizioni quindi un set pesante, a seguire 3 round composti da 10 power snatch, 20 box jump over, 30 wall balls pesi e carichi come al solito sulla grafica qui di fianco, per oggi è tutto, a domani